Lui è l'ultima persona nota ad aver visto Luca e Edith. Si tratta di Robert, un francese che da tempo ha scelto di vivere in Burkina Faso. Contattato da alcuni giornalisti italiani, l'uomo si è detto preoccupato per i ragazzi, che ha spiegato di aver conosciuto durante una passeggiata per la città, in cui il padovano e l'amica canadese si trovavano nel loro viaggio con la Renault Shenik, che li avrebbe dovuti accompagnare fino in Togo. Mentre tre procure indagano su cosa sia successo alla coppia, le istituzioni hanno aumentato il livello di attenzione sulla vicenda. Al momento non ci sono ipotesi messe nero su bianco dagli investigatori italiani. La procura di Padova ha comunque aperto un fascicolo atti relativi, quella canadese invece è orientata verso l'ipotesi di un rapimento. In casi simili potrebbe però trattarsi di una scelta tecnica per eseguire gli accertamenti necessari, più che di una scelta di sostanza, visto che non è arrivata né una rivendicazione né una richiesta di riscatto. Ciò che è certo è che del trentenne Luca Tacchetto, figlio dell'ex sindaco di Vigonza Nunzio e della sua amica Edith di 34 anni, al momento non c'è alcuna traccia se non quella di un testimone che ha raccontato di averli visti la settimana successiva al loro ultimo contatto con l'Italia a pochi chilometri dalla frontiera. Dettagli e ipotesi che a questo punto spetterà agli investigatori valutare nella speranza di permettere quanto prima alle famiglie che vivono interminabili ore d'angoscia di sapere cosa sia accaduto ai loro cari.